Tornati in studio, allora, Sindaco, cerchiamo di capire alcune cose importanti di Lagnasco. Innanzitutto voi state acquistando il castello, ci vuole raccontare un po' appunto questa situazione? Sì, allora, il 2 dicembre ormai è decretato, ci sarà l'atto di acquisto del castello dei Marchesi Tapparelli d'Azeglio. La storia comincia nel 1988 quando l'ultimo erede dei Marchesi, il senatore Emanuele Tapparelli d'Azeglio, alla sua morte lascia tutti i beni che sono diversi, molti ettari del territorio di Lagnasco, con diverse cascine e tra cui il castello, in dotazione a un ente morale che nascerà di lì ed è la casa di riposo di Saluzzo che sta funzionando molto bene. Il castello poi viene utilizzato negli anni del dopoguerra come abitazione civile fino a metà degli anni 90, quando l'allora amministrazione comunale di Lagnasco decide di attuare un accordo di programma con Regione Piemonte, Unione Europea, Ministero Beni Culturali e tre fondazioni bancarie, la fondazione di Torino, Cuneo e Saluzzo. Questo accordo di programma che praticamente inizia facendo dei restauri importanti in quanto in quel momento ci sono dei problemi strutturali alle fondazioni e al tetto e si fa una prima fase di questi lavori con un parziale piccolo recupero di alcuni ambienti. Terminato questo si fa un secondo accordo di programma molto più importante che viaggia attorno ai 5 milioni di euro, viene iniziato attorno al 2003 e si chiude nel 2008, ottobre 2008 con l'inaugurazione. Fanno parte di questa seconda tranche praticamente il 30% del volume del castello, perché è un volume decisamente grande, sono tre blocchi collegati tra di loro che formano un'unica entità ma sono tre blocchi distinti. Il castello infatti ha origini, la prima parte è attorno al 1200-1300, poi altre parti del 1400-1500 e ci sono delle sale, alcuni tratti che sono veramente molto belli perché sono dei saloni o delle sale completamente affrescate in ogni centimetro quadrato, dei soffitti a cassettoni con rosoni dorati tipici appunto del periodo rinascimentale. Bene, allora cerchiamo di comunque tornare all'argomento principale, ovvero il settore agroalimentare. Già Matteo Baralis, cerchiamo un po' di fare il punto della situazione, come sta andando il mercato? Il mercato, come tutti gli altri settori, ovviamente sta vivendo una contingenza difficile per quanto riguarda la situazione economica generale. Diciamo che, come abbiamo detto prima, i dati, poi penso che anche gli stessi filmati lo stiano dimostrando, si tratta di strutture sicuramente che non sono destinate soltanto ad un consumo locale, anche se noi ovviamente curiamo con attenzione il consumo locale, la grande distribuzione organizzata, i negozi di quartiere nel torinese, nel milanese, si trovano tranquillamente i nostri prodotti, quindi è un qualcosa che però impatta con una situazione difficile. Ovviamente in questo contesto il settore ortofrutticolo impatta con quelle che sono le difficoltà normali di quelli che possono essere gli andamenti stagionali e annuali. Viviamo purtroppo, proprio in questo momento, sulla scia di due anni particolarmente difficili e complicati l'anno scorso per tutte le produzioni e quest'anno, perché c'è stato un problema di eccedenza di produzione, quindi di prezzi non sempre remunerativi per i produttori e quest'anno per la prima parte ha avuto un alto e basso, un altalenante andamento della situazione sia delle produzioni che dei prezzi. Quindi diciamo che abbiamo una situazione per la produzione abbastanza difficile. Dobbiamo segnalare, ma questo mi pare che ormai si venga segnalato da più parti, che non le stesse cose le possiamo dire per quanto riguarda le vendite ai consumatori, dove abbiamo noi stessi a volte lamentere da parte dei consumatori che non trovano magari i prodotti a condizioni che siano ribassate nonostante la crisi e queste cose qua. E quindi si apre quella diatriba dove una cooperazione, un mondo cooperativo sempre più forte può effettivamente cercare di avvicinare le due esigenze tra la produzione e il consumo. Ovviamente è inutile dire che la nostra OP, ma penso anzi sicuramente le OP anche dei colleghi che sono qui presenti, trattiamo soltanto prodotto nazionale, quindi abbiamo una ritracciabilità certa, abbiamo delle garanzie sulla salubrità dei prodotti che vendiamo e quindi sicuramente diciamo che noi cerchiamo di portare dal territorio, quindi di curare quelli che possono essere gli elementi cardini di un territorio particolarmente evocato per la frutticoltura, fino alla tavola del consumatore, quegli elementi che sono la qualità che può essere sia rappresentata dalla sanità del prodotto, quindi sicuramente dalla salubrità del prodotto, dal gusto, quindi dalla qualità organolettica e quindi tutte queste cose qua che possono essere sicuramente prodotte e conservate nel tempo. Noi abbiamo già stato citato questa sera in alcune occasioni il fatto di avere delle tecnologie all'avanguardia, noi oggi possiamo dire che in tutti i prodotti dall'inizio della lavorazione, quindi dal ricevimento in cooperativa, ma addirittura già dalla produzione in azienda che noi seguiamo, curiamo con l'assistenza tecnica, con la fornitura diretta degli agrofarmaci, perché è inutile dire che è impensabile, sarebbe sbagliato e sarebbe anche non corretto dire che non usiamo agrofarmaci. Usiamo agrofarmaci controllati, noi seguiamo disciplinari di lotta integrata, la nostra produzione è o di lotta integrata oppure, seguendo quindi i disciplinari rigidi di produzione, oppure addirittura biologica, abbiamo una parte importante di produzione biologica e quindi troviamo la sicurezza alimentare esplicitata ai massimi livelli che produciamo in azienda, che continuiamo nel sistema di conservazione con tecnologie assolutamente innovative. Quasi nessun prodotto viene trattato in modo chimico, ma oramai con i trattamenti fisici siamo riusciti a conservare anche per periodi abbastanza lunghi la nostra produzione ortofrutticola e quindi sicuramente senza impattare, poi lavorandola e penso che chi ha visto il filmato abbia visto, con tecnologie assolutamente all'avanguardia, con tecnologie all'avanguardia non soltanto europea, riusciamo a garantire una linearità della produzione e quindi dare al consumatore quel impatto, quell'immagine, quella tranquillità nel consumare tranquillamente i nostri prodotti. Ecco, quindi senza voler adesso né lanciare slogan né fare delle facilonerie o delle facili illazioni, ma veramente diamo questo tipo di tranquillità con le nostre tecnologie di lavorazione e di produzione. Ecco, dottoressa Sacchetto, già Matteo Baralis parlava di qualità, quanto è importante la qualità, soprattutto in un momento di crisi, come quella che stiamo affrontando adesso? La qualità dei nostri prodotti è ciò che ci consente di emergere, di differenziarci e soprattutto, cosa molto importante in questi anni di crisi di consumi, quindi di crisi di mercato, di mantenere costante nel tempo la nostra presenza sui mercati, soprattutto a livello internazionali, mercati che ci siamo conquistati con impegno negli anni e che quindi ci consente, ed è proprio la qualità dei nostri prodotti che ci consente di mantenere queste quote di mercato. Ecco, oggi si parla tra l'altro molto di filiera corta, di vicinanza tra produttore e consumatore. Ecco, su questo punto, lei qual è il suo giudizio? La filiera corta è importante perché rappresenta un canale di vendita per i nostri prodotti, quindi va da sé la sua importanza. Diciamo che non può rappresentare l'unico canale di vendita perché, l'avrete visto nelle immagini dei filmati della cooperativa Lagnasco Gruppo, come ve ne potete rendere conto quando vi ho parlato di una produzione di 25.000 tons di frutta. Non può essere l'unico canale di vendita perché il grado di specializzazione raggiunto, di professionalità e di specializzazione raggiunto dalle nostre aziende produttrici ci porta a dover gestire quantitativi molto elevati, inevitabilmente quindi a doverci rivolgere al mercato estero e quindi all'esportazione. Ovvio comunque che la filiera corta va rispettata come tale, quindi come canale di vendita alternativo per i nostri prodotti. Ogni canale non esclude ovviamente l'altro. Dottor Manzo, tornando a parlare proprio di filiera corta, un nuovo tipo di economia si dice, cosa ne pensa? Ma io credo che sia giusto sottolineare che cosa si intende per filiera corta. Se per filiera corta vogliamo dire che il produttore porta il prodotto presso le cooperative dove viene lavorato e da lì commercializzato dalle OP, credo che noi tutti realizziamo in pieno questo concetto, nel senso che non vi sono passaggi onerosi in cui il prodotto subisce degli aumenti di costo. Noi andiamo sul mercato con il minor numero di passaggi possibile, nel senso che non vi sono passaggi superflui. Quindi il discorso di filiera corta credo che dal mondo cooperativo, dal mondo organizzato sia rappresentato in pieno in questo senso. è ovvio che per filiera corta intendiamo anche il mercato su cui si va, i visti quantitativi che andiamo a commercializzare, dobbiamo affrontare sia il mercato nazionale sia il mercato estero. Quindi andiamo su mercati diversi ma sempre con questo concetto di economizzare proprio per far fronte alle difficoltà che il settore sta affrontando in questo momento. Bene, noi ci fermiamo un attimo perché vediamo proprio questa realtà orto fruit e poi ritorniamo per il finale.